Cosa c'è? Cosa c'è? Che c'è? C'è Simone là? Ah, c'è Simone di là. Dai, andiamo. Dove è Simone? Fai vedere, dove è Simone? Dove? Dove è Simone? Fai vedere? Ah, serve aiuto? Bravo! Ah, serve scavare? Ah, cosa? È morto? Signore, stai scavando? Grazie Cubo, grazie. Ho aiutato, guarda, ho aiutato. Angel, dov'è? Angel, dov'è Angel? Aiuta! Aiuta! Ah, vivo! Dove è Angel? Dove è Angel? Dove è Angel? Dove è Angel? Bravo Cubo, bravo! Anche io sono carino, anche io. Non fatico a camminare. Non è così facile. Anche io sono carino.